Niente capita per caso. Siamo a Bologna, in questa terra bella, ricca, feconda di idee e di progetti, e non è un caso. Abbiamo avuto le parole di ispirazione del Cardinal Zuppi, che così avanti sa guidare la chiesa di Bologna e non solo, e non è un caso. Abbiamo anche avuto insieme a noi Pier Lorenzo Rossi, il direttore di Conf Cooperative, che insieme a Scolas Occorrentes sono patria di questo bellissimo progetto, la Scuola Internazionale di Management della Pastorale Creativa, e non è un caso. Tutto questo capita in un momento straordinario delle nostre vite, dove la pandemia ci ha segnato, ci ha messo la prova, oserei dire, ci ha posto un esame. E se questo esame lo riusciremo a passare, se daremo un futuro alle giovani generazioni, se sapremo costruire dei progetti inclusivi, coinvolgenti la comunità, questo non deve avvenire per caso. Il bene fatto bene vuole far sì che le competenze, la qualità, la perizia, così come anche Monsignor Zuppi ci ha incoraggiato a fare, la qualità nella pastorale, il saper fare meglio spendendo meno diventi una materia di studio e di riflessione, perché le cose vanno fatte bene per il bene di tutti. Grazie a tutti.